La sostenibilità e in particolare il successo sostenibile vede alcune aziende già molto avanti, anche per via dell'appartenenza ad alcuni settori. Altre aziende stanno muovendo i primi passi o comunque sono in una situazione ancora c'è parecchio lavoro da fare. E quindi il fatto anche di scambiarsi delle idee di best practice, pensiamo che possa essere molto utile e da qui questa nostra iniziativa. Poi Sara sarà molto più specifica sulle dimensioni che intendiamo analizzare. Per avere un confronto costruttivo su tematiche così articolate, ovviamente servono delle competenze multidisciplinarie. Quindi tenuto conto che Mercer fa parte di un grande gruppo, Marshall McLennan, quotato alla Borsa di New York, come sapete, e all'interno di questo gruppo ci sono tantissime competenze, abbiamo invitato a far parte di questo osservatorio alcuni nostri colleghi delle aziende che costituiscono il gruppo. Se mi metti la slide per fortesia con il team, e quindi oltre alle persone che probabilmente molti di voi conoscono già, Marco Morelli, Sara Bottaro, i colleghi Gianluigi Catt e Dall'Anastasi, sempre del gruppo Executive Remuneration Reward, oggi sono presente con noi Sara De Rocco, che è il Chief Commercial Officer di Marshall McLennan, ma soprattutto è il responsabile europeo della parte che noi chiamiamo Benefit, proprio focalizzati su ISG. Abbiamo Valentina Mosca, che è la nostra responsabile della practice che si occupa di Diversity, Equity and Inclusion. Abbiamo Luca De Biasi, che è il Wealth Leader, che nel nostro linguaggio significa la consulenza agli investitori istituzionali, io incluso sulle tematiche ISG, e poi Diego Montepurri, che è il nostro leader del Marshall Advisory per l'Italia, e che è un esperto sia di corporate governance sia di tematiche ISG e di strumenti che i CTA e i comitati utilizzano a supporto delle loro analisi. Quindi, come vedete, un team multidisciplinare, ci sono diverse altre competenze all'interno di Marsh McLennan, che noi evidentemente attiveremo in funzione anche degli interessi che oggi e nei successivi incontri verranno identificati come quelli di maggiore interesse di questa community. Andando ancora avanti, queste sono le cinque prospettive che oggi analizzeremo insieme. Lo stato dell'arte, dove siamo, dove sono le aziende che voi conoscete, che rappresentate. Ovviamente tutte le indicazioni che darete sono a carattere confidenziale e le risposte al survey saranno assolutamente anonime. Il survey ci interessa solo per avere delle indicazioni, ovviamente tenuto conto dei numeri che sono rappresentati, per quanto numerosi non sono statisticamente rappresentativi e quindi costituiranno però delle importanti indicazioni su quello che voi vedete e le aziende rappresentate, come abbiamo visto, sono tante. Le competenze necessarie nel board e nel management per affrontare questi temi. L'altro tema ancora è un po' l'accountability dei comitati di sostenibilità, ma in generale il modello di governance che ciascuna società si è data per affrontare questi temi, sia a livello di CTA sia a livello di comitati, e vedremo che c'è una certa variabilità. Gli strumenti che vengono utilizzati a supporto dei comitati nel fare le analisi, e poi le tematiche people, quali sono gli aspetti più interessanti che i comitati di sostenibilità analizzano nell'ambito della loro attività per quanto riguarda le risorse umane. Andando ancora avanti, finita quindi questa brevissima introduzione, vi ringrazio ancora e lascio la parola a Sara.